Vai a destra, a destra del labio, a destra, da qua. Sì, che entri subito, se non è tutto un cratero, qua dritto dritto. Eh no, stiamo andando la sinistra del labio. Ecco i bughi. Cualquier tronco. Cualquier tronco. Entra il più a destra possibile, ti ricordi? Sì. 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 Grazie a tutti